Il Comitato Terra Lieta-Valtordino, da tempo impegnato nella difesa del territorio contro gli impatti negativi che potrebbero scaturire dalla costruzione del quarto lotto della superstrada terra o mare, denuncia la preoccupazione per la convocazione della conferenza dei servizi in programma per l'11 novembre. Organizzata nonostante l'iter di valutazione di impatto ambientale via sia ancora in corso, un passaggio cruciale per le associazioni per determinare la compatibilità ambientale del progetto. Non capiamo la posizione del commissario, chiediamo comunque di fermarci un attimo, chiediamo nuovamente di essere ascoltati, il nostro comune si sta interessando nelle sedi opportune, noi andremo avanti su tutti i livelli. Contiamo di impugnare come Comitato sia l'esito della conferenza dei servizi qualora la nostra posizione non venga ascoltata, sia eventualmente la valutazione di impatto ambientale perché i rischi sono tanti, abbiamo paura per la nostra gente, lì è una zona a grande esondazione, a grande impatto ambientale, siamo una zona a vincolo paesaggistico, non riusciamo a capire come questo possa tradursi nella costruzione di un mostro che andrà comunque a creare una conca nella zona di Costellanciano. Il fiume si sta riprendendo già tutto, dopo quello che vediamo sui telegiornali tutti i giorni riteniamo che sia quantomeno imprudente insistere su un progetto che comunque è deleterio per tutti. L'incontro di oggi è stato un momento di confronto non solo per informare i suoi rischi connessi alla possibile approvazione dell'attuale progetto il cui costo è di circa 170 milioni di euro, ma anche per portare alla luce l'insolita assenza di risposte chiare da parte di Anas. In piena zona di esondazione Anas la vuole fare, del fiume Tordino, quante volte adesso diciamo non bisogna occupare le zone dei fiumi perché prima o poi se le riprende? Ebbene Anas ha piazzato un'opera da 170 milioni di euro in piena zona di esondazione del fiume Tordino e non lo diciamo noi, lo dice la stessa Anas presentando le mappe sovrapponendo il tracciato alle aree a rischio identificate dalla regione Abruzzo e le prende tutte, praticamente anzi zone a massima pericolosità addirittura, un fatto assolutamente inaccettabile nel 2024 dopo l'Emilia, dopo le Marche, dopo Valencia, addirittura si mette a rischio la pubblica incolumità, quindi noi diciamo che è un progetto assolutamente assurdo da rigettare e noi auspichiamo che la conferenza dei servizi prenda atto di un progetto assolutamente folle.